Il suo nome è Massimo Maccarone ed è una leggenda del fantacalcio. Massimo Maccarone era un attaccante italiano che ha speso gran parte di carriera fantacalcistica tra Siena, Palermo, Empoli e Sampdoria. Segnava in ogni modo, a giro, di rapina, di destro, sinistro, testa, spalla, baby, one, two, three. È stato uno dei primi italiani a giocare in Inghilterra, dove fu soprannominato Big Mac. Curiosamente però nessun inglese è mai venuto in Italia a farsi soprannominare Mega Paninazzo. Big Mac si mostra subito perfetto accoppiato alle patatine fritte, ma soprattutto con Mario Frick nel Siena e con Ciccio Tavano nell'Empoli. Ed è stato probabilmente in Inghilterra, guidando dal lato sbagliato, che ha imparato come arrivare in porta in maniera imprevedibile. Alla fine, infatti, realizzerà ben 79 gol in 271 partite di Serie A, portando bonus a ripetizione ai fantallenatori. Perché lui era Massimo Maccarone, semplicemente una leggenda del fantacalcio.